La città metropolitana di Messina si è costituita in giudizio in ciascuno dei distinti giudizi proposti al Tardi Catania dai comuni di Alcaralifusi, Capodorlando, Caprileone, Castellumberto, Galatima Mertino, Naso, Rodimilici, San Salvadori di Fitalia, Terme Vigliatore e Ucria, presentati contro il Ministero dell'Interno e quelli delle Economie e delle Finanze. Sarà rappresentata dall'avvocato Giuseppe Passaniti. I comuni hanno contestato il fatto di essere stati esclusi dal piano urbano integrato, rigenerazione e resilienza dei comuni. Nel decreto sindacale con il quale la città metropolitana si è costituita in giudizio è stato evidenziato come il Ministero dell'Interno avesse comunicato che il piano non avrebbe potuto essere dichiarato ammissibile poiché in fase di verifica preventiva è stata rilevata la sua non coerenza rispetto all'obiettivo specifico del raggiungimento dell'elevante impatto sul territorio metropolitano per l'eccessivo frazionamento in microprogetti che invece per essere ammessi a finanziamento sarebbero dovuti risultare unitari. La città metropolitana ritenendo comunque non condivisibili le criticità rappresentate dal Ministero dell'Interno decise di avviare comunque un'azione inclusiva dei progetti inviati dai comuni. Da qui l'ex provincia ha ritenuto di costituirsi in giudizio.